benvenuto nell'angolo delle offerte senza testa e cosa abbiamo oggi in offerta abbiamo office microsoft office professional 2013 si tratta di una versione che era pre installata da un mio vecchio computer dal mio computer precedente quindi assolutamente tutto legale in quanto una legge europea permette di rivendere software usato con licenza ovviamente e quindi in offerta oggi nell'angolo delle offerte senza testa office professional plus 2013 con la licenza che attiva il software la suite office tutto legale ovviamente licenza garantita e funzionante puoi vedere il video qui sotto se stai guardando questo video su youtube altrimenti c'è un link comunque che ti mostra l'attivazione quindi funziona realmente in realtà è la versione professional plus ho dimenticato di scriverlo qua sul dvd o è la versione professional plus allora la splendida suite di microsoft per elaborare documenti di testo per fare calcoli quindi redigere diagrammi grafici per creare database per leggere la posta in quanto c'è anche outlook la versione completa sempre 2013 ecco quello che ricevi dvd con la suite office 2013 più la licenza originale un saluto dall'angolo delle offerte senza testa